Queste onorificenze servono al paese per avere ancora più fiducia in se stesso, mostrando persone insegnite nell'ordine del merito della Repubblica Italiana per aver fatto il proprio dovere. L'ha detto il prefetto di Napoli, Francesco Musolino, in occasione della consegna di diplomi delle onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana a 49 cittadini del capologo della provincia di Napoli, i quali si sono distinti per particolari benemerenze. Musolino, nel giorno delle celebrazioni della festa della Repubblica, ha anche preso parte alla cerimonia al mausoleo dei caduti di via Posillipo, insieme al sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Il clima che registro anche io da tempo, una ripresa, un ponte verso il futuro, c'è passione, entusiasmo, è importante oggi ricordare la Repubblica, però leggere anche gli articoli, soprattutto 1 e 3, per capire quanta strada ancora c'è da fare sul tema del lavoro e dell'uguaglianza, quindi la carta deve vivere ancora a lungo ed essere applicata. Alla consegna delle onorificenze in prefettura hanno preso parte anche l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzo Sepe, e i rappresentanti degli enti locali, a cominciare dal sindaco De Magistris, l'assessore regionale alla cultura Caterina Miraglia e il presidente della provincia di Napoli, Antonio Pentangelo. Il 2 giugno è la scoperta continua della identità di un popolo, di una nazione, di una storia fatta di tanti sacrifici, di tante sofferenze, ma anche di tanti successi che si sono ottenuti in questi anni. Io spero che il popolo italiano, come sempre, saprà, con le virtù che ha, con le potenzialità che ha, di superare anche i momenti difficili che stiamo attraversando.